Allora amico siete venuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qua su Mario Tennis e Isis ovviamente accompagnati di mio padre. Ciao! Ok allora a papà è venuta una bellissima idea. La scruzza volta però. Ah no parla prima tu, vai. E' venuta la bellissima idea di cambiare personaggio. Perché ve lo spiega papà? Perché se avete visto il video precedente, se non l'avete visto andatevelo a vedere. Esatto. Vi metterà sicuramente Aurora il link sopra in alto sull'info, se non me ne dico, se non me ne scolto sinceramente. Probabilmente Mario, in parole poi, è uno strazzo. No perché ragazzi papà per una volta che ha perso, per un episodio in cui ha perso, adesso lui odia follemente Mario, non si sa perché. Io dovrei aiutare. Io ho visto queste cammelune. No dai, ma Luigi no, per carità. Perché? Io dovrei aiutare tantissimo Pizzo. No sono fatti me, io voglio mettere. Perché l'hai visto come fa certe volte, rimane un po' impalata. No voglio mettere... No dai, ma Luigi no, ti prego. Ma Luigi fa uno strazzi. Ma dai, è simpatico. Cioè browser, poi prende... Ma browser è lento, io lo vedo lento, io non ci ho mai giocato, ma lo vedo lento. Sì, browser ovviamente ha più potenza, vedi? Cioè non posso mettere la palla di questa, dai. Ma lui è velocissimo. Chi? Forse. Questo lui è velocissimo. Ah potenza c'ha, c'ha la potenza. Coppa è velocissimo. Aspetta allora. Pure questo eh. Diddy Gong. Sì, Diddy Gong sì, anche lui Coppa è molto felice. Questi invece sicuramente sono sbloccati. Questo che è? Questo sotto che sarà? Ah casuale no? Sì, è casuale, quindi non conviene. Vabbè, non voglio far annoiare magari la gente che sta guardando. No, io mi devo prendere. Hanno ovviamente tutte delle qualità? Beh, lo spunto è fantastico, ragazzi. Provo questo dai, anche se non... Ok. No, questo. Io provo Rosalina, che non è che provo, ho già provato molte volte nei tornei online, io utilizzo Rosalina perché ci trovo perfettamente. è fantastica. Ok. La proviamo pure qua, anche se non sarà lo stesso. Ok, la valla flutua ovviamente. Eppure lei flutua. Ah, pure lei, io non ho mai vista. No. Abbiamo sbagliato papà. Perché? Ah, sono sinistra. Tu? Eh, ormai. Sì. Andiamo a scambiare. No, 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 no. E io non te la so allora. E per te tanto con la mano non cambia niente. No, ti me prega. No. Però tu sei sinistro. Però tu sei sinistro. Però io pure so sinistra. E lei dipende a sinistra. No. Ma questo ti confonde che si chiude col guscio, cavolo. Vedete, sei andata a scegliere tu. Uh, che bello. Vai, vai. Hai toccato la corticella. Perché che hai fatto sta cosa? Questo campo. Eh? La corticella. È sulla sabbia. È vero. La corticella. Che piccata. Come lo ricordavo, sai? Sto cavolo di corto chiuso, non mi fai della racchetta dove sta? Ecco perché sta. Eh, beff. Eh, beff. E poi sono sinistra. Non so come ci sia andata a sinistra. Ma il ritardo di che? Ma tu sei ritardato allora? Ehm. Eh, scusa mia. Ottimo. Ehm. Mamma mia. Muscio. Stupido che è quello. E già, mamma mia, ragazzi, guardate come come il fluffo a velocemente ragazzi io oggi mi sono vabbè 1 a 0 state calma state calma e non ti aggirà ora ci penso io perchè questo è velocissimo forse perchè sarò anche sinistra e poi anche perchè magari tu fai sempre fuori potersi anche qui rilassati rilassati stai calmo io so il tuo karma stai perfetto 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 dai ti faccio nera boom oh come mai ha fatto un sacco a giro guarda ma poi ha tremato pure tantissimo si pro me ma ho un sacco a giro non tiro più per fuori non va bene il gioco ma dobbiamo cambiare devi ricomprare il nuovo gioco tutto maledetto bobolone dai è dentro è dentro un cazzarola nooo 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 scusate le parole senza offese io sono gra turchese cosa? nooo un missile terraria guarda come è bello è che è bello amore guarda come è caroce non riesca anticipo di cosa anticipo di cosa vantanzu vantanzu anticipo di cosa voglio sapere io se è perfetta la palla vieni ho vinto ragazzi la prima partita del giorno la vince Aurora with Rosalinda io non ci credo mancina ma la vince non ci credo perchè non è possibile ragazzi non ci posso credere ok la terra abbattuta è il mio forte ok eh stavolta ti faccio una rosa linda nera ahahah guarda quanto è bello e quello davanti è carino che belli occhioni che c'ha grandi vai effetto vedi infatti ho dato però un po' rilento yesaa è lento con tutto il ciò che si zic mi sta prendendo perchè lui è più veloce ma ha meno potenza capito mi sta prendendo il gomito del tenis invece Bowser è più veloce Bowser per esempio è più lento però ha più potenza capito eh ogni personaggio ha i suoi battagli e lo so ma passarola tiè dorme dorme come un pazzo oh questo è perfetto eh ci trovo lo set tanto che ci facciamo tre contestazioni eh che cazzo eh a me non da me nemmeno buona capito sempre fuori quell'altra volta ha toccato a te fuori super concentrati si infatti oh e basta sempre la cavolo ha fatto il fungo per terra tiè 40 minuti per te ok certo ma che cazzo ma che cazzo che cosa succede per il mio corpo è il mio corpo è il mio corpo che cambia mmm 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 e fai uuuuuh uuuuuh 40-30 panna break uuuuuh no siiii no vabbè questo si vedeva che erano fuori eh no vabbè un vecchio si vedeva proprio che era fuori guarda tutto mannana ha più chiaro 2 a 0 non c'è stata storia per me no ha cambiato ah si comunque è 1 a 0 per il momento si si non ce l'ho fatto bombete palapala palapala che tartaruga ninja ahahahahahahah nooo ma che tartaruga rita ritardata proprio il nome di fatto perchè è proprio lenta non è vero e vai su dritto questa pace e dritta sta pace e dritta sta pace uuuuh uuuuh ma quella flutto a stato un metro da sopra da santa è normale che quella tira no no marina siiii io ho il cubo con una palla alla agasi cosa? dai è un ehm ecco ormai con me vai 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 belva no questo era dentro si vede vabbè tu con testa su qua però io almeno ho visto dentro quello non lo so esatto e poi magari si andrà più dentro invece è più fuori no ho sbagliato io si questa è buona no dai questa è buona guarda copa giugno copa giugno ma di cos'era non lo so che è successo non lo so che è successo ma va siiii ah e mi vince e va a vincere di nuovo per la seconda volta consecutiva non è giusto non è giusto la prossima voglio la rivincita mamma mia ragazzi 2 a 0 per questo episodio veramente ragazzi la mia rimonta assurda non ho mai vinto così tante volte nella mia vita in tutti gli episodi che abbiamo fatto fino ad adesso ma comunque avrei dato a rivincita e avverti dato ce l'avrei avevo la mia rivincita sicuramente sono carico magari anche con altri personaggi sono carico comunque ragazzi è ora che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti